Bari, ex convento di Santa Chiara, alvia i primi lavori per custodire un tesoro prezioso e che da anni già ci ha abbandonato nel seminterrato della struttura. È stato interdetto l'accesso ai sotterranei della struttura e circa 100 migranti che la occupano abusivamente dall'11 febbraio scorso. Un ingresso è stato murato, mentre l'altro è stato messo al sicuro con la chiusura di una porta che fra una settimana verrà riaperta per far entrare gli operai della ditta che effettuerà la sanificazione dell'ambiente. In particolare saranno tutelati i documenti e i disegni storici dell'archivio aggrediti da umidità e polvere. Perché in quel seminterrato ci sono disegni e progetti storici di grande valore che documentano, tanto per fare un esempio, il restauro della cattedrale di Bari avvenuto nella prima metà del Novecento. La nostra truppa ha provato a far rivedere qualche giorno fa la situazione, ma è stata bloccata dalla direzione generale della soprintendenza per, hanno detto, motivi di sicurezza. Dopo aver allertato le forze dell'ordine erano arrivati anche alcuni tecnici allertati dall'archivio di Stato per un sopralluogo. Ora dunque sembra che qualcosa si stia muovendo. Una funzionaria della direzione regionale per i beni culturali, Marisa Milella, dichiara Confidiamo che buona parte del materiale rimasto nel seminterrato possa essere recuperato. Dopo la sanificazione il tutto sarà trasferito all'archivio di Stato, dove i colleghi archivisti provvederanno alla conservazione e al riversaggio dei relativi fascicoli.